Daniel, don Tumir, polaco. Il polaco, avete visto? Sì, bella statua. Ecco, la camisetta. Ecco, è il calendario. Ecco, la notizia per Valencia, che l'Aletrica Vaticana è qui. Ecco, la notizia per l'Aletrica Vaticana è una cosa abburi e tutto il bello. Grazie. E poi le presento l'Aletrica Vaticana, che è una piccola muestra del microcosmos Vaticano. La squadra cerimonia. La squadra cerimonia, direzione di economia, ecco, direzione di economia, spazio donario, direzione di economia, sempre direzione di economia. Grazie a tutti voi e che la realtà che questa mattina siamo vedendo qui, sia per tutti noi, come un impulso per andare nel Maratone di Valencia. Sì, ci accontentiamo. Sì, sì, io sarò l'ultimo ad arrivare probabilmente. Un momento, vi diamo un cellulare per fare una... Il primo patrullo della chiesa, dica il secondo. E' vero, è vero. Sì, sì. Bene. Grazie. La città, la città, la città, la struttura di accoglienza dei rifugiati. La città, la città, la città, la città, la città.